dai io mi guida sicuro sul ghiaccio e sulla ghiaia oppure così sul ghiaccio sul ghiaccio eeeeee ok il il mangeo del uguale eeeeee eeeeee questo anche a me è un mega distruzione della macchina tra 3 e 2 perché c'è il tardicristallo da dietro? che cazzo non so mi tocca a Claudio non distrugge la macchina tocca il giubbotto così è una macchina Odier? Odier, Odier è aperta è mega Claudio la corsa di guida è sicura la stessa cosa che ho fatto io dell'incidente la stessa dinamica per controllare la macchina è sbandata ora lo devo fare io con la Volkswagen Up che la macchina se ne esce da dietro e tu la devi riuscire a controllare sapere? no bello però non lo devo fare io così sono con i video così le corvo di gistianina le posso fare veloci così non faccio più l'incidente così lì non faccio più l'incidente no scorsi scorsi la macchina è metana minchia cosa è sbandata Claudio mega Gymkana vabbè ma dai fendiamo dopo mega Gymkana ho fatto il video io poi me lo fai a me che figata io voglio andare veloce sei veloce se devi rimanere tutta quanta eh vedi ce la farlo piano perché me l'ho fatto veloce un po' a me Grazie a tutti.